Dopo il pranzo di Pasqua tutti noi bambini andavamo in giardino a riempirci i cestini con gli ovetti che riuscivamo a trovare. Mimò esagerava sempre con le uova e non nascondeva molto più di quelle che servivano. Sono sicuro che a portarci bene nel giardino di nonna ce ne sono ancora reso da riempire un cestino. A volte da nonno ne è capitato di trovare un ovetto dentro un armadio o tra le cucine del divano. Qualche settimana fa il vater di nonna non funzionava e papà ha trovato un ovetto di plastica rosa che probabilmente galleggiava nella vaschetta dello sciacquone da anni.